bellissima calma Gianluca calma calma ragazzi eccoci sacro santo calcio di rigore al nostro favore calma calma eh il tutto dove sta? ma Gianluca sul dischetto Gianluca sul dischetto chi si è fatto male? Federico eh allora un rigore sul fallo di su Federico Tucci ecco Gianluca si appresta a tirare le cacce di rigore lecce 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 4 a 4 pareggio 4 a 4 pareggio meritato per un secondo tempo alla grande dei nostri ragazzi 4 a 4 4 a 4 ecco 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 forza ragazzi in banchina su dai 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 oh perru dai che non è finita no ma su su non è finita eh non è finita su in banchina ragazzi su su in banchina su tutti guarda c'è conosciuto ok